Ci risiamo, Giacomo e le sue paure. Eccolo alle prese col suo incubo peggiore. Si avvicina alla cassetta della posta, oscuri presagili tormentano, dentro c'è una nuova bolletta, il dramma si consuma e non è finita, ora bisogna pagarla. Ad attenderlo c'è una fila infinita. Oh, si è svegliato. Guardalo come corre a controllare le fatture dall'app di Estra. Ancora non gli sembra vero, da quando ha sottoscritto il contratto Gas Online di Estra non ha più nulla da temere. Risparmia in media il 25%. Può controllare l'andamento dei consumi e le fatture dove e quando vuole, grazie ad app e area clienti. Evita le file per pagare le bollette. E per finire, con addebito diretto su conto corrente rispetta sempre le scadenze. Ma cosa ti serve ancora, Giacomo? Ecco, bravo! Chiudi gli occhi che con Economy Web Gas puoi dormire sonni tranquilli. Con Estra, il futuro è oggi.